Non conosce battute d'arresto la mission di Isola Ursa, il noto progetto che intreccia sostenibilità, ambiente ed edilizia, conosciuto a livello nazionale che nel corso degli anni si è fatto spazio in provincia di Bolzano nell'ambito della sentita rassegna Clima House ospitata come da tradizione alla fiera. L'ultimo impegno è andato recentemente in archivio con numeri da record al Made Expo di Milano e ha visto la presenza di un volto noto del panorama energetico alto a Tesino Norbert Lanchner. Hanno capito tutti che dobbiamo cambiare strada, dobbiamo essere più intelligenti nell'uso delle risorse, nell'uso dell'energia, delle materie prime. Purtroppo tanti credono che c'è una scapatoia e col greenwashing ce la possiamo fare, non è vero, dobbiamo diventare sostanziali nelle azioni, dobbiamo veramente abbassare drasticamente il consumo di energia senza ovviamente perdere la qualità dell'abitazione, cioè il confort ovviamente deve essere garantito in tutte le stagioni, però l'input energetico deve essere drasticamente ridotto e questo significa quello che stiamo predicando per anni riscoprire la qualità dell'involucro, per cui l'involucro deve essere protetto per poter minimizzare i consumi di energie e massimizzare le prestazioni di questo ufficio. Poi possiamo passare alle energie rinnovabili, però prima di tutto va ricordata la legge importante che l'energia più pulita che oggi abbiamo a disposizione è quelle energie che non ci serve. Doppio appuntamento anche per il consulente Casa Clima Roberto Ornati, l'agenzia per l'energia Alto Adige che da anni collabora al progetto contribuendo alla formazione e sensibilizzazione dei progettisti e certificatori del domani. Oggi possiamo realizzare edifici con un consumo pari allo zero o se no addirittura edifici che producono più energia di quella che consumano. Questo basta vedere gli esempi di alcuni protocolli di efficienza e di sostenibilità come Casa Clima o il Passive House dove la cosa fondamentale nell'approccio alla progettazione di questi edifici è l'involucro edilizio, isolare molto di più, porre i punti termici quasi a zero e ma soprattutto un'attenzione anche alla permeabilità dell'aria degli edifici. Dal 22 al 25 novembre a Milano quattro giornate intense con otto convegni e 24 ore di formazione sono intervenuti poco meno di una trentina di relatori di fama internazionale e coinvolti più di 2000 studenti. Isola Ursa che è un progetto di formazione per studenti legato alla sostenibilità e ovviamente ai prodotti per l'isolamento termico e acustico. Quindi devo dire un esempio, un bel esempio di un'azienda che non solo fa un grande successo nei suoi materiali ma che ha avuto anche l'idea di pensare anche al futuro che è il futuro in fondo delle persone che vedete alle mie spalle che stanno imparando delle cose che serviranno per progettare. I processi di pianificazione urbanistica e di costruzione devono cambiare, bisogna lavorare solo sul recuperare quello che c'è, dobbiamo diventare sempre più bravi a recuperare. Abbiamo bisogno di raccontarlo ai giovani, abbiamo bisogno di aprire spazi di occupazione per la sostenibilità ai giovani. Intanto è già fissato in calendario il prossimo appuntamento per Isola Ursa. Il progetto farà tappa alla fiera di Bolzano dal 26 al 29 gennaio 2022 proprio in occasione di Clima House.